quindi poi mancherà un'ultima rotazione per chiudere la seconda suddivisione femminile bravissima Giorgia vero ormai non ho più perso il conto e si entrerà ancora più nel vivo di questa prima tappa del campionato di Serie A1 vai Andrea partito Andrea Passini salto teso con due avvitamenti difficilissimo stopparlo lo fa dopo un saltellino rondata flick tabac bravissimo anche questo è un elemento che è quasi impossibile da stoppare lui lo fa ancora con un piccolo saltellino che costa sicuramente un decimo almeno di penalità però porta a casa molto peggio invece questo di arrivo passone laterale con uscita della gamba sinistra al di fuori ricordiamo un decimo di penalità se si esce con un piede e tre se si esce con entrambi oltre la penalità per il passo che ti ha portato esternamente alla zona consentita bella questa spaccata frontale da qui lentamente sale alla verticale di impostazione questo è un elemento che vale B e va formato due secondi un cambio di fronte e ora un passo coreografico per ruotare il corpo e giungere all'angolo salto avanti teso con un avvitamento si presta la diagonale finale un bel respiro e via rondata doppio avvitamento e mezzo valore D quindi avrà i 5 decimi di abbuono per l'esigenza di livello grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti